La sfida tra Spoltore e Delfino Curi, Pescara, regala sempre grandi emozioni e anche oggi finisce con un pirotecnico 2 a 2. Sparvoli promosso capitano per lui, rumors di mercato lo vogliono lontano da Spoltore ma nel frattempo lui il suo lo fa sempre. Si comincia subito un minuto di gioco, connesca, rinnesca planamente la conclusione dell'ex, sfiore il palo alla destra di Calore. Al terzo cavalcata di Selva Allegra sulla sinistra, traversone per la corrente, petito, conclusione stoppata nuovamente dall'ex Thomas Calore. Ancora planamente protagonista al minuto 12 e sempre l'estremo difensore di casa ad opporsi alla conclusione in due tempi. Traversone di Sparvoli per la corrente di Renzo che manca il tapin per un soffio. La pressione dello Spoltore dà i suoi futti al minuto 37, planamente addomestica un bel pallone in aria e apparecchia per Selva Allegra. Conclusione è calore, questa volta battuto. Vicino al raddoppio lo Spoltore dopo 120 secondi belli per Sparvoli il tocco del numero 10 che si perde di un nulla sopra la traversa. Con le immagini montate da Mario Giacchetta passiamo alla ripresa. Lo Spoltore continua a pressare al quarto minuto, trova subito il raddoppio. Il protagonista è sempre lui, Luca Sparvoli, quattordicesimo gol stagionale con una perla da vedere e rivedere. Si fa vedere il Delfino al minuto 8 di Stefano su calcio di punizione ma Palena senza problemi. Alla mezz'ora nuovamente Spoltore, planamente tra due avversari si libera e si avvia verso la porta lo scarico per Petito che calcia a botta sicura ma l'ex calore ancora una volta si oppone alla grande. Al minuto 37, miracolo di calore su Sparvoli, uscita sui piedi del numero 10 lanciata a rete. Sfera che arriva a Petito, conclusione che termina fuori nell'occasione. Il portiere si fa male ma stoicamente rimane in campo ma per lui si teme qualcosa di grave. Nel frattempo gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Quando la partita sembra chiusa il Delfino rialza la testa al minuto 46 prima la conclusione di Gobbo respinta dal portiere di casa. Sul proseguo dell'azione Tamborriello dalla distanza batte Palena per il 2 a 1. Passano 4 minuti e Starnieri addirittura fa 2 a 2 gelando i tifosi di casa. Finale incandescente, prima viene allontanato Patron Paluzzi e dopo Rosso per Zanetti per questo intervento su un avversario. Luca Sparvoli, 14esimo gol stagionale, oggi anche faccia da capitano, sei uscito standing ovation dei tifosi. Però c'è il rammarico per questo 2 a 2? Sì, c'è un rammarico veramente grande perché è una partita dominata in toto dal primo al novantesimo minuto. Credo che la Flacco, se non mi ricordo male, abbia fatto nemmeno un tri in porta, se non un calcio di punizione. La partita sta approcciata benissimo, ne abbiamo chiusi la loro metà campo girando palla da destra a sinistra. Purtroppo però siamo una squadra giovane e quindi possono capitare questi errori e servono soltanto per crescere. Luca, senti, i rumors di mercato ti vogliono lontano da spoltore, ci puoi dire qualcosa oppure preferisci glissare? Al momento il mercato ancora non si apre, quindi fino al primo dicembre sono un giocatore dello spoltore e poi vediamo che succede. Una partita forse non la più bella giocata dal Delfino, però come diceva l'epoca, anzi, il Delfino non muore mai. Vabbè, ma giocare bene contro lo spoltore a spoltore su questo campo non è proprio la cosa più agevole del mondo. Penso che fosse il secondo attacco del campionato, peraltro in un primo tempo in cui secondo me è stato alla pari per larghi tratti. Poi in questo campo quando le fasi di gioco cambiano, rapidamente si può andare sotto perché si fa presto a subire abbastanza. E noi abbiamo subito proprio in chiusura di tempo, negli ultimi dieci minuti, questo gol che ha rotto gli equilibri. Poi sinceramente è diventato un miracolo perché magari si può anche segnare allo spoltore, visti i gol subiti e che dice lo score, però non prendere tanti gol in contropiede era un'impresa. Andando sotto 2-0 dopo 5 minuti avrebbe ammazzato le gambe a tutti, fondamentalmente l'ha ammazzata anche a noi le gambe, perché per 20 minuti non abbiamo saputo far nulla e loro non ci hanno concesso nulla. Poi con l'imprevedibilità proprio delle partite magari in queste situazioni, una volta che fai il 2-1 subentra per loro una certa paura e fondamentalmente abbiamo trovato un gol soprattutto per loro demeriti. I nostri ragazzi sono stati bravi in quello che sono capaci, perché io credo che se una squadra perde solo due partite su 14, vincendone quattro solo, solo tra virgolette, dice che è una squadra che è tosta, però dice che è una squadra che ha tanti problemi, ma lo sappiamo perché il livello del campionato si è alzato e io ho molto timore del giorno di ritorno, dico la verità, al Presidente ho detto che sono seriamente preoccupato perché secondo me tutte le partite che stiamo pareggiando, il giorno di ritorno le perderemo tutte, però questo è quanto, è difficile per noi prendere i giocatori d'attacco, loro hanno una qualità davanti, Trasparvoli, Petito, Planamente, Selvallegra, gli faccio i complimenti e sono sinceri perché noi abbiamo preso un punto isperato e loro giustamente si mordono le mani perché avrebbero meritato la vittoria per tutto quello che hanno fatto.